C'è una spiegazione su un mantra che è Om Aim Klim Non l'ho mai praticato Se quello che io pratico lo posso spiegare Io non sono un panditio, un erudito, uno studioso No, sta ancora là, è ancora là Se qui in giro c'è un erudito per favore può spiegarlo E Marashi dice Io non voglio diventare un erudito, un professore Io vorrei diventare un servitore di Suamini, di Radarani Dice, vi serve qualche qualifica materiale in questo mondo Per poter diventare servitori di una signora Semplicemente uno basta che sappia fare un po' in cucina Gli lavi i vestiti Che fa un po' di cusciture Che l'aiuto, insomma, si dia da fare col trucco Con i vestiti Invece se voglio servire uno proprio qualificato Allora devo imparare a fare i soldi, a fare gli affari Come avere a che fare con i venditori, con i compratori, eccetera Invece se uno si vuole rendere utile per una signora E in quella maniera uno rimedia anche del buon prasada Quindi la cosa importante è entrare nel bava, cioè nel sentimento delle gopi Gopi bhava significa che il loro unico, l'unica cosa che hanno da fare è il sentimento Il bava Quindi il bava delle gopi significa che non importa il sentimento Che uno esternamente c'ha Chi ha corpo femminile lo può capire meglio Tu sei goduto La mente ha più capito un altro Però va bene No, no, no Only gopi bhava can bring you to the service of the Allora solo il gopi bhava ti può portare al servizio E' un servizio femminile You have to become female for that Quindi uno deve diventare femmina per questo What female? Like I'm a female body Quale tipo di femmina? Come io posso avere corpo femminile? Non è questo il significato Non è questo il significato Non è questo il significato La natura La mia natura è to enjoy Voglio godere Voglio avere io piacere o essere io adottile Ma è natura femminile perché devi essere goduta Sì sì Se non sei femmina non lo capisci Io voglio godere Tu sei il goditore Krishna Krishna sei tu che devi godere Se io nella mia mente ho un piccolo punto di godimento Allora uno è molto lontano da questo Giusto? E quando vogliamo seguire E quando vogliamo seguire E nel sentimento di servizio Io voglio essere goduta da te Tu sei il goditore Tu sei quello che gode Io voglio essere goduto da te Quindi questo è il goku bava Dice che uno abbia il corpo maschile O che uno abbia il corpo femminile Quello è esterno È qui dentro Si capisce? Quindi questo è il servizio che dobbiamo fare Per essere qualificati per servire Dice che non puoi dare i bacetti a Krishna nel mondo spirituale col corpo di uomo Dice Narayana Maharaja ha detto che non puoi dare i bacetti a Krishna nel mondo spirituale col corpo di uomo No, chiaramente No, chiaramente Dettono era Ma questo è il gruppo di Chandravari Questo è il gruppo di Chandravari Radhika group has no business with Krishna Il gruppo di Radharani non c'è niente a che fare direttamente con Krishna La loro felicità è quando Radharani si incontra con Krishna Non hanno un desiderio proprio Come due signore Una di queste due signore ha un fidanzato che lo ama molto E l'altra invece ha qualche amico E lei ha degli amici Introduce il suo amante a queste amici Ecco, lei ha degli amici e introduce il suo amante a questi amici Cioè glielo fa conoscere E allora la tua amica comincia a innamorarsi al tuo fidanzato Il tuo amico comincia a parlare con la tua fidanzata Sì, non è una buona cosa E non è una bella cosa Non puoi credere questo Questa cosa è incredibile Ok, ok I will keep you by distance Bene, io da te sarò molto distante per un po' Radhika's kinkris and manjeris Never have any dream in even For thinking for Krishna Quindi le mangiari, le chinkari Ma nemmeno per la controcassa Nemmeno per il sogno Gli viene in mente di avere a che fare direttamente con Krishna Loro vogliono avere a che fare con Radha e Krishna E a che serve questo? Come se tu vedessi la tua ombra Te muovi una mano e anche l'ombra muove la mano Te fai così con le mani e anche l'ombra fa così con le mani Tu alzini la destra e lo abbracciassi Ah, ho capito Sì, ok E se abbracci qualcuno E se abbracci qualcuno E se abbracci qualcuno Questa cosa succede anche nell'ombra Con l'ombra Quindi le mangiari, le chinkari Con questo esempio si può capire che Sentono la stessa cosa che sente Radha E sono pienamente soddisfatti con tutto ciò E' bello? E' bello Sono costantemente coscienti di come è cosciente Radha per Krishna Però Però non hanno un interesse personale proprio verso Krishna E' per questo motivo che diventano mangiari Non è facile Non è facile E se noi partiamo direttamente da Krishna poi non ci arriviamo a questo livello Io ho capito questo Questo è il progresso Il progresso finale è quando non ci interessa più Krishna Esoterico Allora uno diventa veramente fortunato Uno vuol dimenticare ma non gli può succedere E' bello no? E' bello no? Senza la misericordia di Radha Rani è impossibile Dobbiamo vederlo con gli occhi Attraverso i suoi occhi Attraverso i suoi occhi Grazie I suoi sentimenti I suoi sentimenti I suoi sentimenti Però bisogna stare attenti a non offendere Radha Rani Cioè a non cercare Ovvero come si è detto Probabilmente è il stesso Ma ci dobbiamo essere осciami Non offendere Radha Rani Cioè arrivare direttamente anche a Krishna Se uno vuole dire a Krishna direttamente offendere Radha Rani Se uno vuole andare direttamente a Krishna Può offendere Radha Rani E' vero? In realtà finisce il desiderio, perché quando sei con Radarani sei praticamente sempre con Radha e Krishna, non hai altri desideri. Finiranno tutti i desideri materiali, automaticamente, serve solamente dell'ansietà di arrivare a questo, del desiderio forte di arrivare a questo. Narayan Maharaj scrive sempre questo nei suoi libri e dice, l'unico argomento che vale la pena di trattare è loba, cioè il desiderio intenso. Non serve nessuna qualifica per questo. Questo loba cambierà tutti i vostri comportamenti. Ti piace? Si capisce? I tuoi occhi mi dicono che hai capito. Io posso vedere chi prende o chi non prende. E se vedo che intorno a me ci sono delle 10 persone, insomma un certo numero di persone che capisce come sta succedendo alla madre, succedono delle cose. Come se vuoi prendere il latte o non vuoi mongere una mucca, ti serve un vitellino, cosa fanno i vitellini? Mentre le fanno le manneli? Mentre le manneli, 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 le manneli e le manneli. Si mettono lì ai capezzoli e fanno così. Il sentimento molto profondo è lo stesso che fa anche per me, è così telepatico, così la vibrazione può vivere. Quindi in questo modo Maragio sta dicendo che uno se capisce, se riceve il messaggio è come se stimolasse lui ad aprirsi ancora di più. E aggiunge pure, dice che lui sente come la mamma che nutre il vitellino così lui percepisce telepaticamente il fatto che se qualcuno ascolta o no. Grazie. Che chiede, no, come il vitellino. Ho capito, ho capito. Scusate. La vibra c'è stanno. Sì, si è previso. La arikata è come il latte. E la arikata è come il latte. Quando si succede, quando si succede non si succede. Noi non possiamo capire quando succede e quando non succede. Una volta Maragio in Svizzera, a Dole, e c'erano qualcosa come 200 devoti davanti a lui. Io mi sono messo a sedere e non mi veniva niente da dire. E ha detto a qualcun altro, canta, canta, canta. Dice, non potevo dire niente perché non mi scorreva niente. Quando succede, allora io posso dire qualcosa. Dice. Grazie a tutti.